ben a tutti ragazzi sono factor mod e oggi sono qui per giocare deathmatch a squadre non il solito dominio giochiamo su shiband deathmatch a squadre cioè veramente io non capisco shiband non la becco mai non la becco mai in dominio e la becco un deathmatch a squadre gioco con il mio p90 il mio p90 magnifico p90 io lo adoro 3000 kg poi del sugo in questo vediamo se riusciamo a giocare voglio fare qualcosa di più che altro soldati non fate prigionieri ci siamo in vantaggio UAB la ricognizione in attesa UAB alleato online UAB alleato online UAB alleato in arrivo UAB aereo pronto UAB alleato online 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 UAB da ricognizione in attesa UAB alleato online UAB alleato online UAB nemico in volo UAB alleato online UAB alleato online La bella partita rapida e indolore ragazzi 13-3, 13-3 4-33 di rapporto Bella partita Uno è riuscito pure a fare 21 Come cazzo fai? Deve essere veramente rapido Bene ragazzi vi saluto alla prossima Vedremo ritornare su ship Magari in dominio Magari Magari Grazie a tutti Grazie a tutti Axel